Vedo rosso interrompi l'incontro di cesare con i cardinali per assicurarti che la sua richiesta d'aiuto fallisca siamo veramente nel rush finale niente sincronizzazione totale meglio così Siamo super famigerati Dov'è il bersaglio? È lui Ah va pedinato aspetta io tipo ero già pronto all'attacco Eh non mi deve individuare questa è una bella cosa Molto tosta Perché tipo sono super famigeratissimo adesso Mi vogliono tipo tutti Però posso passare per di lì 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 Merda Dove vai? Ok va di là Visto Questo è culo ma culo culo Unitevi a me e ci riprenderemo Roma Abbiamo deciso di eleggere Papa della Rovere Ci dispiace Ma ho La vostra nomina Roma non è più la stessa di prima Il denaro dei Borgia non è più ben accetto Vi pentirete di questa decisione Un assassino Via I seguaci a pagamento vi offrono il loro sangue Ma quando cercate aiuto Vi si rivoltano contro Guardie Prendetelo Ora Via Ok ridatemi 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 la salute bravissimi Ok Assassin Tempeste di frecce Eh qua vi frego così Potevate aiutarmi però eh Qua Proprio nel mezzo della tempesta Uno ancora vivo Non si sa come mi è ancora vivo Ok un po' Di salute mi è tornata Tanto ti trovo Ti trovo Ti trovo Ti trovo Ti trovo Ti trovo Ma Perché cazzo ti arrampichi Devo aspettare adepti per questo Per forza è scappato oltre il limite Raga si è buggato Grazie Grazie adepti Senza di voi non ce l'avrei mai fatta Fuori due su tre Oh che bello Vieni qua coglionazzo Vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua Che bello che ti faccia rigenerare la salute così Ci siamo Vedo rosso Fatta Vedo nero La 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 Tutto rush così uno dietro l'altro Dicembre Se da settembre a dicembre I miei uomini dicono che Cesare sta radunando i suoi soldati migliori Davanti alla porta principale di Roma Il centro commerciale Lo affronteremo insieme Tutte le strade portano Unicite gli altri assassini per affrontare Cesare e i suoi seguaci rimasti E' rimasto da solo quell'uomo lì Chiamatelo uomo Abbiamo comprato una piccola prebenda dal vescovo di Orvieto per il nostro figliolo maggiore Piazza del popolo Quando si fa questo Fate la guerra tra di voi Che io mi occupo di lui L'Italia intera sarà riunita E voi governerete accanto a me Qualcuno non è d'accordo Presto Micheletto giungerà con la sua armata Ma per allora voi non sarete in vita Insieme per la vittoria Insieme Come all'inizio Di Assassin's Creed 2 Adesso si fa sul serio Si fa sul serissimo Non ho gli adepti assassini Ok Tutti giù per terra Perché non ho gli adepti Perché Perché Morto Sepolto Ma qua ho fatto una cazzata Come essere coglione Starter pack Adepti 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 Grazie per avermi interrotto Quello là ci sta ancora provando Via Morto Tutti questi ancora Vieni Venti secondi Uccidetelo Presto non sarai più Finito E io riavrò i miei domini Ma cosa avrai te? Cesare Borgia Sento già le truppe di Micheletto in arrivo Riconquisteremo la mia città Una volta per tutte Questa non è più la tua città Per ordine E non lo è mai stata Io vi arresto Cesare Borgia Per i reati di omic... Di tradimento E di incesto No No Soprattutto incesto No Non finirà così Le catene non mi tratterranno Non morirò per mano d'uomo È stato il modo in cui l'ha detto Le catene non mi tratterranno Se ti preoccupa C'è il modo di scoprirlo No A pala di vetro? Bisogna nasconderla fuori dal dominio degli uomini Che peccato Nascondere un capolavoro dove nessuno lo potrà vedere Eppure E se stesse parlando sul serio Non posso rischiare Folgorato Cesare aveva ragione Devo andarmene E i tuoi amici? Ho creato la confraternita perché durasse Con o senza di me Che cosa intendi fare? Piantare un seme Tieni Un regalo Se questo È piume Allora tieni il denaro Non lo va Denaro Noi ci rincontreremo Hai la mia parola Buona fortuna Che brutto addio Bruttissimo Tra l'altro la sequenza ripristinata l'abbiamo già fatta Col tuo magro salario Ne avrai bisogno Già il mio mecenate è stato arrestato Finisce qui ragazzi Tutte le strade portano a Chissà dove Sequenza 8 terminata Nuovo oggetto sbloccato Nuovi contratti sbloccati Ah vero quelli Degli adepti Degli adepti Degli adepti Degli adepti